Questa signora anziana una volta rimasta vedova purtroppo e mi è venuta a fare un grande regalo di regalo in un studio che c'è questo cane che tutti sappiamo Tiene un problema perché questa vecchia come si va a girare prima la cucina oppure va a baciare un cerdino e cosa? Sto io che c'è non è un problema, adesso tu ti va a vicinare la cucina Si spessi la vecchia ma chi si capisce questo qua? Via! A dove te rilassi? La c'è tutto accastrato Mentre tutti i nostri spessi stai parlando, no da signora Però se la signora stai dalla lana Quasi hai capito che il guano che il padre scopito è tanto E' un signore, qual è il vostro problema? Si no io ho fischato il cavolo un uomo per girare, fa un ratosilo e girare la costa E' un problema che non ho visto questo problema Come un uomo per girare il composto che non sa duvidare la cucina La lana vittura su tutto cuore Si no, 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 ma io devo risolvere questo problema Io sono venuto qua, devo castrare i cani Io l'ho portata a castrare E voi signori l'avete portata a castrare? No, io l'ho portata a tagliare oggi No, io l'ho portata a castrare